Una volta creato il modello strutturale, notiamo che gli elementi architettonici hanno lasciato il posto alle aste del telaio equivalente e ai relativi nodi. In questa fase è possibile selezionare nodi o aste e modificare le loro proprietà nella Property Grid. Le proprietà sono raccolte sotto diversi gruppi, quali caratteristiche, carichi o vincoli, e inoltre è a disposizione per determinate aste anche la scheda Interventi, che raccoglie le proprietà relative agli interventi di rinforzo. Un'ulteriore scheda raccoglie i risultati dell'analisi e saranno proprietà disponibili una volta eseguita l'analisi. Durante tutta la fase strutturale possiamo modificare la visualizzazione degli elementi. Possiamo ad esempio disattivare la visualizzazione di nodi e solai, modificare il modo in cui vengono disegnate le aste, oppure cambiare la colorazione e portarla per esempio per tipologia oppure per piano. Altre funzioni molto utili sono senza dubbio quelle del gruppo Filtra. Con il comando Trove, infatti, è possibile visualizzare una lista di tutti i nodi o di tutte le aste. A questo punto è possibile applicare dei filtri per avere tutte le aste che rispondono a certi requisiti. Ad esempio supponiamo di voler visualizzare tutte le aste del piano terra. Nella colonna Piano andiamo a selezionare il piano terra e applichiamo il filtro. A questo punto abbiamo una lista di tutte le aste di quel piano. Ora possiamo selezionare tutte le aste nella tabella, che automaticamente verranno selezionate anche nel modello. E a questo punto abbiamo a disposizione i comandi Risalta e Isola per mettere in risalto gli elementi selezionati. Supponiamo di voler utilizzare il comando Risalta. Come notiamo, tutti gli altri elementi vengono posti in visibilità ridotta. Ora estendo la vista di questa finestra, facendo doppio clic, e supponiamo di voler isolare completamente alcune aste. Posso selezionarle direttamente dal modello. Supponiamo di voler selezionare questi maschi e queste strisce. E a quel punto posso cliccare sul comando Isola per visualizzare solo quelle determinate aste. Per tornare invece alla visualizzazione completa occorre ripremere il pulsante Isola e il pulsante Risalta. Un altro strumento molto utile per isolare porzioni dell'edificio è rappresentato dal comando Box nella scheda Strumenti. Il comando Box permette di limitare la visualizzazione del modello alle sole entità comprese tra due piani paralleli. Per attivare il comando è sufficiente scegliere l'orientamento dei piani, supponiamo di voler il piano XY, e selezionare un punto intorno al quale definire i piani. La vista cambia automaticamente e si porta parallela al piano scelto, in questo caso il piano XY. In qualsiasi momento è possibile ruotare l'edificio oppure scegliere una delle viste standard, supponiamo di scegliere la vista da sud-ovest. Notiamo che l'edificio è stato affettato con due piani paralleli. Possiamo agire sui limiti del Box per aumentare o ridurre la distanza tra i due piani. E in qualsiasi momento possiamo annullare il Box cliccando sul pulsante Relativo. Bene, prima di passare alla fase successiva facciamo alcune considerazioni sui livelli. I livelli vengono calcolati automaticamente a partire dai piani dell'edificio. A livello 2, ad esempio, corrisponde la quota del soffitto del piano terra. Per quanto riguarda le proprietà dei livelli, notiamo la presenza dell'impalcato rigido, che viene impostato di default pari a sì per tutti i livelli. Nel nostro caso, al soffitto del piano terra, abbiamo la mancanza di un solaio perché è presente un doppio volume. Quindi scegliamo di impostare la proprietà impalcato rigido sul No in entrambe le direzioni per tale livello. Ora ci portiamo nella finestra Parametri di calcolo, che raccoglie tutte le opzioni relative alle analisi. Scegliamo di eseguire, oltre all'analisi modale, anche l'analisi statica non sismica e l'analisi pushover. Per quanto riguarda l'analisi pushover, scegliamo le distribuzioni B unimodale ed E uniforme e le direzioni più X e più Y. Confermiamo ed eseguiamo le analisi. Una volta eseguite le analisi, possiamo consultare i risultati nella relativa scheda. Partiamo dall'analisi modale e visualizziamo la deformata. Anche in questo caso, la possibilità di avere viste multiple aiuta ad avere con un solo sguardo una visione complessiva dell'edificio. Possiamo infatti capire subito dalla vista in pianta e dalla vista laterale che il primo modo di vibrare è un modo traslazionale in direzione Y, come sottolineato dall'etichetta che indica questo modo come il modo principale in quella direzione con una massa partecipante dell'84,5%. Passando al secondo modo di vibrare, deduciamo che è il modo traslazionale in direzione X con una massa partecipante dell'86,4%. E così scorriamo tutti gli altri modi, passando al terzo che è un modo torsionale e via via al quarto, al quinto e al sesto. Altre indicazioni molto utili sui risultati dell'analisi modale provengono dalla visualizzazione delle masse. In questo caso visualizziamo le masse generatrici in direzione X. Le masse vengono rappresentate da sfere di dimensione variabile centrate nel nodo relativo. La colorazione delle sfere offre indicazioni sul vincolo di tale nodo. Le masse grigie sono quelle il cui nodo è bloccato in direzione X. Se notiamo sono infatti le masse relative ai nodi di fondazione. Le altre masse hanno il contorno rosso coerentemente con l'asse X e possono essere campite di rosso nel caso in cui il relativo nodo sia un nodo libero o di giallo nel caso in cui il nodo sia un nodo slave. Nel nostro caso abbiamo definito il livello 1, 3 e 4 come impalcati rigidi e quindi i relativi nodi sono nodi slave. Mentre il livello 2 è stato definito come non rigido e i relativi nodi sono liberi. Inoltre la diversa intensità della campitura fornisce indicazioni sull'entità dello spostamento nel modo considerato. Passiamo ora a visualizzare le masse generate e notiamo che per i livelli definiti rigidi tutte le masse sono confluite nel nodo master cosa che non è avvenuta al livello 2 definito come non rigido. Se aumentiamo la scala notiamo che abbiamo ancora delle masse localizzate in tutti i nodi di questo livello. Ovviamente la loro dimensione risulta inferiore a quella del nodo master. Passiamo ora ai risultati dell'analisi statica non sismica dove possiamo visualizzare per ogni condizione di carico elementare e per ogni combinazione di carico gli spostamenti, le reazioni vincolari, la curva delle pressioni nel caso di archi o colonne in muratura e i diagrammi di stato per tutte le caratteristiche di sollecitazione. Inoltre è disponibile una colorazione secondo verifica e dalla relativa leggenda che si attiva nella barra in basso possiamo notare che tutte le aste sono verificate. Passiamo quindi ai risultati dell'analisi pushover. In questa analisi possiamo fotografare lo stato della struttura per tutte le curve calcolate e per ogni passo dell'analisi incrementale. Decidiamo di visualizzare gli spostamenti e la colorazione secondo verifica. In questo caso la colorazione dipende dallo stato dell'asta. Si va dall'asta in fase elastica all'asta parzialmente o totalmente plasticizzata fino all'asta collassata oppure in trazione e compressione eccessiva. Scorriamo i vari passi dell'analisi pushover per vedere come cambia lo stato della struttura all'aumentare del taglio alla base. Notiamo la plasticizzazione delle varie aste e arriviamo quindi al nodo finale che rappresenta il limite ultimo della struttura. Nella scheda curve di capacità abbiamo una descrizione dettagliata di quale sia la capacità e la domanda della struttura per i vari stati limite. Inoltre abbiamo a disposizione una tabella che per ogni curva calcolata offre indicazioni riguardo gli indicatori di rischio sismico in termini di PGA e tempo di ritorno. Detto questo possiamo passare a un'ulteriore fase della progettazione che riguarda l'analisi cinematica. Ci portiamo nella scheda modello e facciamo clic sul pulsante Crea modello cinematico. La scheda Cinematismi contiene tutti gli strumenti necessari per la definizione dei meccanismi di collasso. Ingrandiamo la finestra 3D e supponiamo di poter definire il ribaltamento di questa parete con il trascinamento di un cuneo della parete ortogonale. Per farlo andiamo a tagliare i corpi della parete ortogonale con il comando taglio tramite polilinea. Selezioniamo i corpi e definiamo un profilo di taglio sfruttando gli snap del disegno. Facciamo passare il profilo del taglio per i punti più deboli della struttura, cioè le aperture. A questo punto confermiamo con il tasto destro e andiamo a definire la cerniera del ribaltamento. Definiamo il punto iniziale e il punto finale della cerniera. A questo punto selezioniamo i corpi partecipanti al meccanismo utilizzando il comando Seleziona corpi. Passiamo alle finestre multiple facendo doppio clic sulla finestra e visualizziamo un'anteprima del cinematismo. Anche in questo caso le finestre multiple sono molto utili per avere una visione complessiva del modello in quanto permettono di inquadrare il cinematismo da diverse angolazioni. Dato che l'analisi cinematica è un'analisi interattiva attivando la leggenda abbiamo già a disposizione il moltiplicatore di collasso e l'indicatore di rischio sismico in termini di PGA e tempi di ritorno. Ovviamente questi valori dipendono dai parametri stabiliti per il cinematismo nella property grid. Bene, con questo è tutto per questo video. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro con la versione 2015 di EDS PCM.